I cittadini potranno votare sino il 29 luglio ed esprimere così la propria preferenza in merito alle tre aree tematiche per il bilancio partecipativo 2022. Si potrà scegliere come per il 2021 tra cultura, integrazione e inclusione, ambiente e sostenibilità, cure e bellezza del centro storico, sport, sviluppo economico, turismo, tutela e benessere degli animali. I cittadini potranno esercitare una sola preferenza collegandosi al sito web del comune dopo l'identificazione del richiedente attraverso l'accesso via Speed, sistema pubblico di identità digitale. Bisognerà inoltre assicurarsi che lo stesso sia aggiornato con residenza nel comune di Caltanissetta, altrimenti il sistema non permetterà di accedere. Dopo la fine delle votazioni verrà pubblicata la graduatoria e l'avviso pubblico sull'albopretorio e sul sito istituzionale del comune, in cui verranno specificati tutti i dettagli sulle modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali. Ogni cittadino in forma singola associata potrà presentare un solo progetto prevedendo un costo massimo omnicomprensivo di 8.000 euro. L'amministrazione si riserva, si legge nell'avviso, di definire successivamente la destinazione di eventuali importi che dovessero rendersi disponibili, nel caso in cui la somma dei costi dei progetti preferiti ed ammessi al finanziamento risulti inferiore agli euro 40.000, cifra questa che è stata destinata infatti al bilancio partecipativo 2022.